Ma sono veramente smart? Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Quest'oggi vi parlerò degli auricolari SBS e AirBuds Eccoli qui Questi sono stati presi in offerta In tempo limitato con la Wind Infatti questi oggigiorno sembrano non essere più in vendita Ma sul sito della SBS ci sono tanti vari modelli similari a questi auricolari Che cosa hanno di particolarità questi auricolari? Bene Aprendo lo sportellino si riesce già ad immaginare tutto Ma sono veramente smart? Bene, questo lo andiamo a scoprire insieme Intanto facciamo l'unboxing e vediamo cosa contengono Aprendo lo sportellino si riesce a scoprire insieme Aprendo lo sportellino iniziamo già ad avere una piccola idea di quello che c'è all'interno All'interno troviamo il caricabatterie della SBS sempre ricaricabile Potete notare che ci hanno tre pallini qui La marca SBS Questo design è stato studiato per la Will E poi troviamo Come potete vedere gli auricolari E il caricabatterie All'interno del pacchetto troviamo il libretto di istruzioni in inglese e in italiano Che ci spiegano effettivamente cosa fare, come pulirli e ricaricare Una volta inserito gli auricolari si iniziano a caricare da soli Chiudiamo lo sportellino e la calamita permette di potercelo portare appresso senza fare troppi sbalzi Come vedete ci sono gli indicatori di LED Questi indicatori diminuiscono in base alla carica del dispositivo Questa è anche una power bank Entrare nelle opzioni del Bluetooth Una volta entrati nel Bluetooth Bisogna aprire lo scatolino delle cuffie Iniziano a lampeggiare di rosso e blu Ecco, si sono collegate fra di loro Una volta smesse di lampeggiare Gli auricolari sono in comunicazione fra di loro Si preme uno dei due auricolari Indipendentemente da quello che volete fare E si vanno a cercare i dispositivi sul telefono Una volta che compariranno SBS e AirBuds Bisogna collegarli premendoci sopra Sul tasto del Bluetooth sul telefonino E il gioco è fatto Quali sono i controlli di questi auricolari? Bene, indipendentemente da quali dei due andiamo a prendere Se stiamo in fase di chiamata Se stiamo ascoltando la telefonata Oppure riceviamo una telefonata Basta premere una volta per accertare la telefonata E in chiamata Premere un'altra volta per attaccare Se invece ci arriva la telefonata E vogliamo rifiutare Due volte, velocemente E si stacca tutto Se invece vogliamo richiamare l'ultimo numero che è stato fatto O che abbiamo in rubrica Premere due volte Tac tac, velocemente Il tastino degli auricolari Poi, per quanto riguarda la musica Possiamo solo mettere play e pausa Basta premere una volta e parte Basta riprendere indipendentemente Sempre da quale cuffietta vogliamo utilizzare E riparte la musica Ecco perché dico che queste cuffiette Sono smart ma non troppo Avrei preferito che ci fosse stato Almeno all'interno delle impostazioni Del bluetooth di queste cuffiette La possibilità di poter scegliere Di mettere avanti o indietro una canzone O di passarla solo ed esclusivamente in avanti Le consiglio perché comunque Queste cuffie hanno un rapporto Tra disturbo e il suono Veramente molto bello Non danno fastidio Sono molto comode E allo stesso tempo Anche muovendo la testa Le cuffiette non cadono Bene Se il video vi è piaciuto O volete acquistare Delle cuffiette da parte di SBS Vi metto in descrizione il link Il sito E allo stesso tempo Se vi è piaciuto il video Mettete un like Attivate la campanellina Per non perdere le altre Prossime mie recensioni Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi